e grazie al comitato organizzatore di e non forum che ha invitato per domenica io si che mi ha invitato io non sono a verona come colleghi per domini ma sono ai per nè nella in francia nella champagne quindi vorrei ringraziare roberta mirco e tutto il team di berth per domenica io sì che ha contribuito a questo lavoro e un grazie anche a matteo perini che seguirà che parlerà dopo questo intervento e vorrei ringraziare anche il team della fondazione edmund mac che ci aiutano a caratterizzare ea comprendere meglio i chitosani che sono presenti sulla terra e sui mercati enologici vi propongo quindi una panoramica delle diverse applicazioni dei derivati di chitina nel mondo del vino sicuramente conoscete l'applicazione di chitosano su bretta non mi cesso su alcuni batteri ma forse conoscete meno altre applicazioni bio enologiche del chitosano che hanno un significato nella misura in cui chitosano un bio polimero con proprietà tecniche enologiche molto particolari ci si può chiedere per quale motivo il chitosano interessi in tanti ambiti tecnologici oggi brevemente da un certo numero di anni i consumatori desiderano avere un pianeta più verde con prodotti meno invasivi per la salute e questo in tutti gli ambiti quindi se possibile prodotti naturali quindi si auspica uno sviluppo delle soluzioni verdi e nell'ambito legato all'alimentazione nell'ambito delle bevande questo comporta il bisogno di avere degli strumenti di origine non animale che non siano allergenici e che comportino un minimo di chimica quindi il chitosano può essere una risposta in questo ambito quindi guardiamo l'elaborazione del chitosano la fonte principale sono i crostaceo ma l'oive ha raccomandato una provenienza fungina esclusiva questo per evitare ogni rischio di allergia questo in ambito enologico quindi l'unica via autorizzata è quella che utilizza i funghi come aspergillus niger vediamo anche il cartiglio in rosso quindi si parla di chitina che è desacitilata in ambito basico per ottenere il chitosano dopo diverse fasi di purificazione in questa diapositiva vediamo tutte le applicazioni del chitosano che vanno dall'agricoltura al trattamento delle acque reflue con anche tecniche più spinte parametri o cosmetiche e vediamo che il chitosano può assorbire 15 volte la propria massa in libidi e questo lo spiega perché lo si trova nei prodotti dimagranti e lo si trova anche in giappone per l'utilizzo per la produzione di gel protettivi dello stomaco e ci sono quindi moltissime applicazioni come la sua capacità di catturare metalli pesanti e metalli di transizione la capacità di flucculare in condizioni particolari il che ne fa un'ottima colla un effetto barriera nei confronti dell'ossidazione bisogna ricordare che ci sono delle pellicole che a base di chitosano per proteggere la frutta e verdura quindi il chitosano rappresenta una vera barriera all'ossidazione e ne conosciamo anche le proprietà disodorizzanti che sono state studiate anche dal team di Chilici a Bologna che ha evidenziato che il chitosano è capace di catturare determinati off flavor come i fenoli volatili. L'insieme di queste proprietà evidenziati in neunologia spiega il forte sviluppo di questo biopolimero naturale. Cos'è che spiega le proprietà così particolari di questo biopolimero? Il chitosano assomiglia molto alla cellulosa qui a destra lo scheletro è identico e l'unica differenza è il gruppo ammino che vediamo qui circondato in rosso sul carbonio 2 del glucosio. Le grandi proprietà che conosciamo del chitosano sono che grazie a questo gruppo ammino è in grado di protonarsi in un ambiente acido quindi può interagire con i legami elettrostatici può anche produrre del reagire interagire con gli ortochinoni ne riparleremo dopo e può creare anche legami forti ma non covalenti con legami idrogeno o per esempio ad esempio che vediamo qui il chitosano che sta interagendo con i collagene che ha un peso dieci volte superiore alla sua massa. Altre proprietà che meritano di essere menzionate sono ad esempio la sua capacità di chelare determinati metalli di transizione come il ferro che è uno dei principali catalizzatori di ossidazione nel vino partecipa alla comparsa di specie radicaliche che formano che danno luogo alla formazione di chinoni di radicali idrossile che in questo esempio trasformano l'etanolo in etanale in acetaldoide quindi attraverso questa chelazione del ferro il chitosano contribuisce a ridurre le sue reazioni di ossidazione può stoppare le reazioni radicaliche ad esempio qui vediamo questa struttura viene precipitata nel mezzo molti lavori sono stati fatti con il team di Antonio Castro Marin e questi lavori sono stati fatti all'istituto di chimica dei radicali di Marsiglia che è uno dei principali laboratori in questo ambito in Francia. Per quale motivo insisto tanto su questa chimica dei radicali perché questi processi radicalici che ho evidenziato in rosso ebbene questi processi radicali ci sono quello che spiega l'invecchiamento di ogni forma di vita la nostra o anche quella del vino. Ricordiamo che i fenomeni ossidativi sono responsabili di molti difetti nel vino come l'odore di fungo per la formazione per l'ossidazione i lipidi desidrogenati la diminuzione degli aromi varietali per l'ossidazione radicalica di alcuni tioli questi tioli che si possono sommare sui chinoni una volta che i fenomeni che si sono ossidati questo chinone che contribuisce come sapete all'imbrunimento dei vini. Abbiamo visto rapidamente queste diverse proprietà del chitosano adesso vi propongo una carrellata del suo utilizzo in enologia. Catturare il ferro i radicali i chinoni è interessante però il risultato che vogliamo è innanzitutto un risultato sensoriale organolettico ed è per questo motivo che vedremo anche alcuni esempi di analisi sensoriali effettuate nel corso di questi lavori. Come dicevo nell'introduzione parleremo solo delle proprietà di collaggio in senso lato del chitosano nei vini e lasceremo da perdere le proprietà microbiologiche da una scelta voluta. In questo esempio vediamo la cinetica di flocculazione chitosano in un mosto in confronto con un medesimo mosto non trattato o trattato con un'altra colla che è la proteina di pisello o non affatto trattato. C'è una differenza da 1 a 3 tra le modalità dopo 5 ore di trattamento. Questo è legato alla capacità del chitosano di cambiare le sue proprietà elettrostatiche mediante il fenomeno di proteazione di cui parlavamo prima. Quindi dopo 5 ore abbiamo una riduzione molto forte, un aumento della trasmittanza, il che dà luogo ad un gusto che risulta più apprezzato a seguito dell'aggiunta di chitosano. Anche questo è uno studio che è sviluppato da alcuni anni da Iose, un prodotto che è stato ottimizzato dal team di Perdomini a Verona, il QAP XC che contiene del chitosano fungino con acido tartarico per una migliore messa in sospensione colloidale del prodotto, una migliore attività di seguito. Su questo esempio flottazione per cui si è ideato questo prodotto, 25 mg per litro di chitosano consentono di avere risultati di torvidità molto vicini al prodotto e riferimento della cantina che in questo caso era la gelatina e si vede una flocculazione molto efficace se si guarda la luminosità del prodotto. Se si guarda la luminosità in particolare la componente gialla che è inferiore a quella della gelatina, questa risulta interessante in particolare per il strapping dei chinoni o dei polimeri ossidati durante le prime fasi della pressatura come si vede qui. Quindi abbiamo un'altra prova fatta in laboratorio che consente di confrontare diverse colle mediante un test di tenuta all'aria che è un metodo molto semplice per quantificare la resistenza all'ossidazione del vino che viene messo in cellule di spettro colorimetria seguendo l'assorbanza a 400 nanometri. Questo metodo per quanto semplice consente di vedere il potenziale di ossidazione dei vini e quindi diverse origini vengono testate sempre a 10 grammi per ettolitro nel mosso e qui seguiamo il cambiamento di colore dei vini dopo fermentazione. Qui si è utilizzata la proteina a base di patata che dà risultati simili a quelli che abbiamo col chitosano e poi le proteine di pisello che danno risultati inferiori. I risultati migliori sono quelli che abbiamo su questo vino su cui si è utilizzato il Coapa XC che è indicato appunto il rosso e che è stato utilizzato in una flottazione. Quindi parlavamo dei rischi di ossidazione legati alla presenza di cationi metallici che vengono dalla vinificazione oppure dalla matrice del mosto come ad esempio il ferro o il rame. Fabio Chinice aveva mostrato in simili vino la capacità di questi metalli di sparire come si vede qui quindi con una riduzione e diminuzioni tra il 50 e l'80 per cento. Questo in un mosto ad esempio contaminato da ferro arriviamo ad una riduzione del 70 per cento del contenuto in ferro con una dose eh di questo un dosaggio di questo prodotto. Vediamo che più eh maggiore è la quantità di prodotto ma maggiore è la che l'azione del ferro e la cosa interessante di questa slide è che abbiamo due matrici diverse da un lato un vino dall'altro un mosto e in entrambi i casi con delle proprietà di che l'azione di metalli di transizioni presenti su entrambe le matrici. I tioli varietali sono importanti in onologia sapete che ci sono dei vitigni che per motivi sensoriali organolettici eh hanno l'esigenza il bisogno di mantenere questi tioli varietali e la perdita i tioli varietali nel processo di vinificazione si spiega con diversi meccanismi. Se ne parlava prima eh sappiamo che il chitosano può interagire con i chinoni quindi se il chitosano interagisce con i chinoni è possibile preservare i tioli e peraltro questi tioli sono in grado di ossidarsi direttamente attraverso delle vie radicaliche e come abbiamo visto il chitosano può bloccare delle reazioni radicaliche. Queste due argomentazioni sono quelle che vediamo applicate qui. Quindi vediamo un guadagno di quasi il 50% i tioli trattati con il chitosano rispetto ad un mosto non flottato trattato con la proteina di pisello. Quindi vedete qui vedete il guadagno di in termini di tioli liberi che viene dato in questa stessa sperimentazione ma qui con una flottazione del mosto con chitosano. Questa protezione dei tioli era già stata evidenziata dal team di Bologna in soluzione e modello quindi in mosto oppure in vino il meccanismo di protezione dei tioli è lo stesso. Guardate qui le ultime due barre la gialla e la verde di questo grafico che mostra che il chitosano evidenzia le stesse proprietà protettive che ha la solforosa utilizzato 80 milligrammi l'idratro e quindi i vantaggi sono notevoli in molti casi si possono applicare al vino. Quindi non bisogna dimenticare che il vino è fatto per essere bevuto quindi non bisogna dimenticare l'impatto del chitosano sulla qualità sensoriale del vino. Quindi bisogna l'effetto del chitosano è una maggior freschezza con una differenza significativa come vediamo qui in questo grafico. Quindi questo si traduce una minor ossidazione, un maggior equilibrio in bocca. Qui non è significativo ma c'è una tendenza comunque una tendenza marcata a preferire il vino che viene da un mosto trattato o flottato con chitosano rispetto alla gelatina che è l'alternativa utilizzata in flottazione. Come sottolineiamo in questo cartiglio qui le prove che abbiamo condotto da cinque anni a questa parte sono sempre favorevoli al chitosano a livello di risposta sensoriale quindi credo che abbiamo fatto un centinaio di prove diverse confrontando il chitosano con altri ausiliari per di flottazione. Quindi abbiamo parlato dell'interazione tra chitosano e chinoni quindi prodotti ossidazione dei fenoli quindi ci si può chiedere quali come funzioni rapporti tra il chitosano e i fenoli stessi prima della loro ossidazione. Quindi cosa succede se è possibile catturare questi fenoli attraverso il chitosano? Già una decina d'anni fa Eder aveva mostrato che l'interazione del chitosano con i polifenoli nella loro totalità, sono le barre verdi che vediamo qui, che era relativamente efficace come vedete qui il chitosano ha un'efficacia inferiore a quella della PVPP ma un'efficacia simile a quella della caseina e vediamo che per quanto riguarda l'acido caftarico mostra una capacità di interazione equivalente a quella della PPVP e superiore a quella della caseina quindi che siamo nel mosto o nel vino i polifenoli non solo ossidati ma anche ossidabili possono essere catturati dal chitosano. Un'altra esperienza di collaggio in cui si è confrontato in modo schematica l'attività di alcune colle nei confronti preparazioni a base di chitosano qui il prodotto si chiama NO-OX una formula base di chitosano con un'attività inferiore alla caseina per quanto riguarda la componente rossa di questo vino ma viceversa un'efficacia simile a quella della caseina per quanto riguarda la componente gialla e superiore alla proteina di pisello o alla PVPP quindi si può immaginare che ci sia un'interazione forte del chitosano con i polifenoli ossidati e anche con quelli polimerizzati. Sempre con questo medesimo prodotto NO-OX si è fatta una degustazione molto particolare su un blend Pinot Nero Chardonnay che aveva avuto un errore di gestione nelle vasche, nei serbatoi e quindi era molto ossidato. Come si vede qui si indica l'ossidazione al naso e qua sotto invece l'ossidazione gustativa percepita dai panelist e l'ossidazione era così forte che si percepiva anche un notevole amarore. Si sono provate diverse diversi trattamenti il cliente voleva vedere se l'aggiunta di 20 mg SO2 era sufficiente per ridurre i per così dire quello che vediamo in rosso. Vediamo una riduzione delle note ossidative con l'aggiunta di SO2. Si è provata anche un'altra tecnica che prevedeva l'utilizzo di un prodotto a base di PVPP, proteina e pisello e bentonite a 50 grammi ettolitro e lì abbiamo visto una buona riduzione delle diverse componenti dell'ossidazione ma da questa degustazione emerge quando si prova il NOOX alla stessa dose del prodotto precedente vediamo che il miglior risultato sensoriale si ha con il prodotto a base di derivati chitina. Per concludere due esempi rapidi per quanto riguarda l'utilità dei derivati chitinici su altri parametri enologici come l'impatto sulla torbidità con collaggi fatti un rosato e bordeaux nel 2019 con il controllo con proteine di pisello, proteine di patata e il key fine che è un prodotto dedicato al collaggio nel mosto o nel vino e vediamo che qui abbiamo una bella riduzione una forte efficacia del collaggio che è legata proprio all'interazione nel chitosano con i colloidi del vino con una riduzione rapida della torbidità su questo vino specifico. Sapete peraltro che se guardiamo quello che è l'indice essenziale, l'indice col mattaggio, se si vuole avere un imbottigliamento senza preoccupazioni sappiamo che una torbidità bassa come sulla diapositiva precedente non ci garantisce di per sé che non avremo problemi al momento della filtrazione finale. Abbiamo testato due proteine diverse e qui vediamo i risultati della proteina di pisello. Sappiamo che a seconda dell'origine del prodotto utilizzato potremmo avere risultati diversi. Sapete che la dose di utilizzo è la stessa ma vedete che la proteina di pisello dà risultati interessante ma il vincitore è il qui fine che ci dà risultati ottimali in termini anche di indice di col mattaggio quindi risultati superiori rispetto alla proteina di pisello che era la colla di riferimento per questa cantina specifica. Quindi abbiamo fatto un quadro delle proprietà dei derivati chitinici parlando di questi tre prodotti principali che sono veri strumenti che trovano una loro collocazione nelle diverse fasi del processo enologico andando dal mosto al vino finito. Il chitosano ci mostra diverse proprietà che l'enologo può sfruttare quindi il collaggio nei mosti o nei vini per prevenire o curare problemi di ossidazione o anche per ridurre le quantità di anidride solforosa. Quindi per motivi tempo non abbiamo potuto sviluppare questo aspetto quindi vi suggerisco alcuni riferimenti della letteratura per approfondire. Queste sono pubblicazioni del 2019-2020 nella maggior parte dei casi. Quindi se avete domande sono a vostra disposizione e per il momento vi ringrazio della vostra attenzione e passo la parola a Matteo che approfondirà ulteriormente quelle che sono le tecniche utilizzate per caratterizzare i chitosani.